allora per ricordo di mia mamma mi sono presa questa sciarpina che era così bella elegante che abbiamo fatto un matrimonio il matrimonio sarebbe i compari la mamma e papà poi c'ero io in mezzo alla carrozza che dovevo prendere il vero della sposa quindi non so che età io tenevo però ma ero piccola dice mi raccomando tienilo bene tutte queste cose e questo è un ricordo della mamma tanti anni fa vedi come si è mantenuta bene e la tengo quando io faccio poi le recite questa me la metto perché non diamo vestite di nero ne ho tante ma io mi metto sempre questa a fiocco no ecco per tenere il ricordo della mamma si la mamma carina teneva un cappotto grigio mi pare una cosa grigia questa bella sciarpa di sopra nera figurava tanto figurava la mamma mia era con i capelli ricci piccolina papà era alto grande la mamma era piccolina questi capelli ricci ricci e allora che si portavano come un'onda qua così faceva lì no un'onda giuseppina la mamma giuseppina papà è Ernesto Luigi ecco questo è seta seta matta e la striscia intorno intorno è seta lucida vedi perché non è che è lucido di qua e di qua la seta è normale originale però c'è una fascia di seta è proprio bella questa cosa sì la mamma se la metteva sempre quando c'erano le occasioni queste e poi conservata conservata se si rovinava eccola vedi che bella fascia che tiene lucida da una parte e dall'altra adesso manco le trovi queste cose così belle grazie a tutti